E' forte Silas Secondo il tracker Silas è il miglior eroe qua Oh vai Bello questo No saliamo pronto non c'è un ticket Guardate che figo comunque la grafica a sinistra Da pc ci dovrebbe vedere, da telefono forse è un po' piccola vero? O si riesce a leggere anche da telefono la grafica La grafica sulla sinistra Quella che segna tutte le partite con l'aumentare E' il diminuire del punteggio Da telefono è piccola Anche se metti full schermo non si riesce a leggere Chiaramente con la chat non si vede Però full schermo forse si riesce a leggere Tanto full chat Con la chat secondo me non si leggeva neanche prima Quando era tutto in alto a sinistra Piccola ma si legge Allora ci sta ragazzi Alla fine comunque non deve neanche essere invasiva Dai neanche un ticket For real Livellata secondo me Non senso comprare pezzi che non ha un ticket Dai Hanno cambiato la policy di Twitch tipo d'altro ieri Sulle ads O cosa Sono curioso Non so O magari non hanno cambiato nulla relativo a questo Buonasera domani un esame di scover di un trentelodal Daglie Daglie In bocca al lupo Ho delle reclute fresche fresche per te Minchia che bidoni Però almeno hanno i ticket E questo territorio Si trova un 5-4 Forte Un altro 3-3 Un 6-6 in realtà Se no prendo invoca spine Però invoca spine non posso prendere questo E non saprei neanche su chi tirare le gemme Quindi avere un 6-6 che mi da pure uno di questi Tra l'altro buono se vogliamo prendere Pashmar realmente Che prendiamo qua Divoratore coppia Però in realtà uno mangia l'altro secondo me Ci sta il divoratore Magari non lo gioco adesso Dopo altre Magari le tengo tutte e due in mano Basta un demone qualsiasi ed è free stats E probabilmente perde lo stesso con questa schifezza Quindi teniamoli in mano Così siamo più forti tra due turni 8 8 Dai che palle Sono usciti due demoni Nessuno di loro due ha il ticket Però vanno presi Però vanno presi Allora Bene adesso potrei prendere 3-3 Tazzina Oppure livellare 3-3 Tazzina In realtà Non è terribile Prendere 3-3 Tazzina Nel senso che il 3-3 È un 6-6 La tazzina è un 5-5 Sono belle statistiche Io ho 28 di vita Quindi non posso neanche essere troppo greedy Però anche il mio avversario ha livellato Probabilmente ci sta a livellare Avendo il Murlock Fare tazzina E pompare il Murlock Che poi venderemo turno dopo Non è bellissimo Dai non male Non male Ci sta così Bello questo Amalgama Seems fine Roll Tripla Col ticket Attenzione Zazz the nuts Oh mio Dio La tiriamo su Amalgama Eh mi sa di sì Allora Aspetta Allora com'è il disco E con la play Probabilmente va fatta al sesto Roba Quindi Prenderei il 4-2 E questo E poi turno dopo Facciamo un discover a 5 E un discover a 6 E mangiamo Amalgama Quindi adesso vendiamo questo Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Prendiamo questo qua E facciamo così Bello clean E turno dopo Facciamo tier up Vendiamo Qualcosa Non so se voglio vendere Il murloc 3-2 O la goccia Nel senso che La goccia È più scarsa Allora il discorso è Il murloc 3-2 Probabilmente Non ha comunque senso Tenerlo Perché Se prendiamo Il murloc Taverna 6 Abbiamo comunque Pina gonfia Quindi con Pina gonfia C'è comunque il murloc A cabal daba a fare Col taverna 6 No Di 7 Ci sono 9 danni Vabbè Quindi via il 3-2 Prima il discover a 5 No Prima questo Tanto il murloc Non ci stanno Cioè i mech Vuol dire non ci stanno Prima 6 Si scopera Pipistrello Anzi Pipistrello Schifo Pipistrello Ho un demone Qui gli altri Non ho niente Pipistrello Per forza Pipistrello Baragliare scaglia Ok Make sense Roll A questo punto L'amalgama Non è così terribile È un demone Che scala E può prendere Poisonus E si potrebbero Prendere questi due Facciamo così Facciamo così Sicuro Quindi avrei La coppia Di 4-2 E penso Di far saltare Questo La goccia Direi Anzi E Dai Mangiamo Sti 3 Ci sta Dai Va bene E per la mente Siamo così forti Che non si attiva Neanche il 2-6 Però vediamo Ho messo un buff Su pinna Perché? Ho venduto qualcosa Per il troppo Uh Bello Ci sai fare Non penso che Mi ha mai senso Livellare Aghem Oddio Aghem è piccabile Se esce Il vero spino Probabilmente si piglia E si lascia stare I pipi Una cosa del genere Cioè si fa Tipo una menagerie Secondo pipistrello Secondo pipistrello Penso che a sto punto Salti l'amalgama Allora Il doppio pipi E Il doppio pipi Ci sta Aspetta un secondo Ricordati di iscriverti Al canale Mettere like Se ti sta piacendo il video Aiuta l'algoritmo Sei proprio come esagerare Anche un commentino Però Like e iscriviti Va già benissimo Il discorso del doppio pipi È che noi adesso I buff Vediamo che vadano Tutti su tre pezzi C'è già successo prima Quindi Non ripeteremo Due volte lo stesso errore E quindi Probabilmente salterà questo qua Cercherei Probabilmente Al posto di quello Un pezzo Che mi permette Di far farmare Questo qui Tipo Voidlord Va benissimo Anche se Voidlord Cazzarola Ruba buff Niente Stiamo così Stiamo dato due buff La maga Cioè va bene anche così In realtà E È molto difficile Dare veleno Ci prendevo Voidlord Iniziavo a dare Pozo Secondo me Rischiavo comunque Di non uscirci Adesso direi che Andiamo al 6 Proviamo a cercare Tripla di pipi Gull Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo Tripla di amalgama C'è Ci può stare Non scoprire al 6 Interessante Allora In teoria È regina Dei mantidi Qua Perché regina Dei mantidi Puzza Visto che ho due pipisterelli Non ha senso Prendere mantide qua Anche abbastanza easy Secondo me Prendere mantide Potevo anche semplicemente Andare full demoni Con due amalgama E quindi fare tipo Pipisterello Due amalgama Demoni di 3026 E poi due mantidi Liroy E lasciare stare Murloc Era una play Possibile Dai ammazzami qualcosa Oh yes Sono riuscito a mettere Un po' Tra l'altro Avevo il 15% Di ammazzarlo Questo Ora quel murloc Non salta mai più Questo Ok Questo Si piglia Non so su quando Lo giocherò Ma si piglia 3 stats Non prendo lui Non prendo ovviamente Il 2-3 2-4 Ticket c'è Al ticket Ma Rolliamo Rolliamo ancora Niente Robaccia Rollo Argus Argus è buono Dovrei vendere il murloc 26 Fare argus Sulla mantide Mi dispiace però Cavolo Non riesco a dare veleno A questo così Però è vero che Downtown sulla mantide è buono Quindi ci può stare Se no salta la No l'amalgama non ci sta Fala a saltare Salta davvero il murloc 26 qua Mi sa eh Salta il murloc 26 Prendo argus È forte da fare su mantide Lo gioco infatti su mantide Basta credo In quel mondo Ha più probabilità Di trovare scudo Di ottenere scudo E non riduco il numero di Di servitori Mi sa che salto lì veramente Fa strano ma Da far saltare Una moneta d'oro in più Così Ovviamente Argus salterà per il 3-3 Ma non questo turno Allora io credo Adesso Che ci stia andare A prendere mantidi E l'iroi E quel murloc 26 Senza taunt Così vulnerabile da solo Le probabilità che ci dava C'è chi ci avrebbe dato Un altro veleno Secondo me erano molto basse Alla fine il nostro murloc Velenoso Che accompagnerà i demoni E che dà una Da una tribe Per la mantide Già c'è E l'amalgama Comunque scala Grazie ai pipistrelli Quindi potrebbe Non aver bisogno Del veleno Comunque ora Che abbiamo dato Argus Il murloc 26 Si può anche ricomprare Però non era Non era da prendere Che in questo momento Era da fare lo switch Nulla roll Nulla roll Allora Le tribe Che non ho Sono Elementale Elementale Naga Boh in realtà Cioè qua Salta lui Devo triplare questo Potrei davvero Prendere i ticket Però non vorrei Prendere i ticket Di pezzi puzzolenti Questo qua Almeno dà un po' Di statistiche Questo qua Puzza Questo si fa Qui è good Rollerei Roll 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 Porca miseria Questa è buona La naga è buona Io lo dico sempre Fai le cose in grande O non farle affatto No Lo sapevo Ah È apparso Quando lo mangio Sempre così Sempre così La beffa Che infame Che infamata Questa di Bob Ragazzi Ovviamente Eh vabbè Un classico Un classico Continua così Forza Spero di ritrovarlo Auguri bello Da me Che stanno Tocco di 30 Azz Si sei arrivato Ai 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 Sei 92 Quindi Ci sai fare In bocca Al lupo Il 3 davanti Fa male Iniziamo a prendere Questa qui E questa qui Si può iniziare a prendere Tra l'altro col ticket Si prende Pipistrello O mantide Vabbè Missata Roll Zap col ticket Allora Non ci sono robot Non ci sono bestie Quindi Zap La vedo dura Possa essere utile Peccato Roll Roll Leroy Sempre quando mancano Due gold Porca miseria Allora Probabilmente Il pezzo che dovrà saltare L'amalgama A costo di perdere Una tribe Perché allora La naga non si può far saltare Ora È troppo più forte Di quello E non lo so ragazzi Cioè Dovrei vendere Dovrei vendere Questo O un pipistrello Cioè potrei vendere Anche un pipistrello In realtà Però mi sembra Veramente Boh Una follia Vendere il pipistrello Vendo l'amalgama Prendo l'eroy Oppure non prendo niente Qua sto fermo Però l'eroy È buono No roll Lasciamo stare L'amalgama Sto turno si tiene Amalgama Sto turno si tiene Devo provare Perché non lo Perché mi scordo Di tirare il scudo Ragazzi Ma quanto sono stupido È già due volte Che succede oggi Cioè sto fumato forte Giustamente Perdo Perché con lo scudo Non avrei perso Questa è proprio Una mossa D'Apollo Dimensioni bibliche Tutti i ticket Questo è buono Tasto di scuola Dai Pipi Niente Madonna che merda Che schifo Niente Prendo questa Ma Tutto schifo Più 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 Rumore Fanno Quando Cado Assolda pure Una di queste Reclute Non ho paura Di nulla Forse ci stava Mettere la naga Dietro La serpest davanti Non credo che sto Abbia scudi Non si sa mai Però Bene Questo rimane Con uno di vita Però Col ticket Ok Ragazzi Quando sono stato Coglione Non tirai quella Self Avrei Beh Alla fine Lo sdorm Ho perso Lo stesso Dai Mi sono preso 14 danni Però La stroll Bazzuzzo Ha spremuto Un euro Tiè Caffè di compleanno Mandare baci Grazie Bazzuzzo Per il caffè E per averci fatto sentire Questa bella musichina Grazie È un'alerte È un'alerte Molto da Molto Cool ragazzi L'ho messo letteralmente Nel 2018 Questo alert E mi Cioè quasi toglierlo Mi Mi sembra di rimuovere Come un pezzo D'antiquariato L'alerte Delle donazioni Visto che si sente Praticamente Una volta Ogni tre mesi Non Non ho mai sentito Il dovere Di doverlo modificare Quasi Mi sembra di fare Un torto al canale Rimuoverlo Sì anni 90 Esatto Esatto Qua è come non mangiare Purtroppo Shop è indecente Però la goccia Andava presa Aveva il ticket Se no Tavo a rollare tre Per avere un po' più di stats Pazienza In realtà La cosa più importante È triplare il pipi Così ste stats Si uniscono Allo spazio Di mettere Naga O altro E' sta bene Devo metterlo indietro Quello Deve stare a metterlo indietro Con la naga Tutti i liroi davanti Piazzano Più o meno Sarei stato Asato Così Sarei stato Un po' più sopra Contro uno sdormo E tra l'altro Non avrei rischiato Di prendermi 23 Sto turno Sarei stato Immeritatissimo Ok questo è il fight finale Quindi la naga È probabile salti Ok questo ok Seconda regina Buono Roll Roll Devo trovare La tripa di pipisterra Abbiamo capito Che ormai non appare più Tripa di self Sanca non sarebbe male Ottima Quindi Via questo Dentro la tripa di self Magari è proprio la Zara Proprio la tripa di self A darci la tripa di pipistrello È proprio così Vabbè adesso in questo momento Ragazzi Mi verrebbe da dire Che siamo forti Ti metterai la setter davanti Barone dietro La mettiamo qua Metto il barone Metto la seconda naga Basta Barone e seconda naga Yes Spostendo questo Cercare un po' di cose Do un po' di statistiche Credo a questo punto Forse il taunt È buono Posso stare Provare a cercarlo Non lo trovo Quindi niente Pazienza Vai Dai 93% Oh Altro primo posto Nice Nice Anche se ho fatto Quella cappella dello scudo Che mi ha costato Un 23% Che fortunatamente Non ho perso L'abbiamo portata a casa Sta partita Tra l'altro con una build Non banale Un po' strana Sta build Dai sto un attimo Ritorlando in careggiata Adesso Per le distrazioni Ci sta Chiudiamo con due primi posti So che alla fine È sempre La build è sempre la stessa Ragazzi Veleni E veleni Era più bello Metabody Succedevano cose assurde Adesso purtroppo Alla fine Ho provato a fare Un po' di cose diverse Vabbè Guardate che bidonate Che sono venute fuori Però alla fine Vince sempre sta roba qua Vince sempre sta roba qua Purtroppo Vince sempre sta roba qua